C'era una volta una piccola bimba che da quando era bambina soffriva di epilessia. Durante le lezioni di ginnastica, le sue compagne e i suoi compagni la isolavano e lei si trovava costretta a fare esercizi di coppia con il docente. Fuori dalla scuola, veniva bullizzata fisicamente e psicologicamente, con scherzi crudeli e violenza. Una domenica all'oratorio, fu persino aggredita con un ombrello. Nonostante tutto, la bimba cercava di difendersi con le parole, ma alla fine era costretta a difendersi con i pugni. Una volta, rischiò di annegare in piscina a causa di un bullo, ma fortunatamente venne salvata da due maestre. Nonostante le difficoltà, la bimba rimase forte e coraggiosa, cercando sempre di difendersi e proteggersi da coloro che cercavano di farle del male.